Anche oggi una situazione insostenibile, i miei colleghi sono diventati insopportabili, sono troppo nervosi, la mancanza di una donna le sta rendendo la situazione veramente preoccupante. Allora, le riviste d'ordinanza sono completamente croccati, non si aprono più, il surrogato gonfiabile è definitivamente usurato, non reagisce più alla pressione della gravità forzata, si sgonfia sempre sul più bello. Io glielo avevo detto ai tecnici, fate attenzione alle valvole degli apparati superiori, evidentemente non mi hanno voluto dare ascolto, avevo fatto dei test di persona, l'hanno fatta con troppe tette. La libido dei miei compagni poi non ne parliamo, sta raggiungendo dei livelli assurdi. Allora, mi nascondono la roba, mi hanno fatto lo che vengono più volte a tavola, che accompagnano dietro le spalle, quando meno te l'aspetti. Non vi dico la mia preoccupazione, sono dovuto stare chiuso in camera per due settimane intere e poi manco potessi fumare. Questa storia delle sigarotte, solo il coach ha quelle buone le tiene nel suo armadietto. Non vi dico cosa mi ha chiesto in cambio, lasciamo stare. Anch'io certo sento certe pulsioni, ma almeno io non mi lascio andare in atteggiamenti che potrebbero compromettere seriamente tutta la missione. Cioè, non vi dico cosa hanno fatto i cavoli di caciambella. Stiamo finendo gli ortaggi, stiamo finendo gli ortaggi. Comincio anche a temere per la mia incolumità. Si avvisa il gentile equipaggio che alla sezione suge, no, pardon, sullogati. E alla sezione sullogati è terminato il lubrificante per i granaggi. Si avvisa la gentile equipaggio.